Mesagne si candida a Capitale Italiana della Cultura per il 2024. L'ufficializzazione avverrà martedì mattina in una conferenza stampa presso l'Auditorium del Castello. Saranno il sindaco Tony Matarrelli e l'architetto Simonetta dello Monaco, responsabile del progetto, a illustrare il percorso che Mesagne ha intrapreso con il supporto di un comitato promotore composto da eccellenze nel campo accademico, artistico e professionale. Saranno presenti all'incontro con la stampa, tra gli altri, i due componenti mesagnesi dei Bundabash, Angelo Rogoli e Angelo Cisternino e l'attrice Vanessa Scalera. Sono stati invitati anche tutti gli ex sindaci di Mesagne e Viventi. Sono 24 le città italiane che hanno presentato la manifestazione di interesse al Ministero della Cultura, quasi identica alla distribuzione geografica tra le diverse zone del paese, con 7 città al centro, 7 al nord e 10 tra sud e isole. Oltre a Mesagne, la Puglia è rappresentata da Conversano, in provincia di Bari. La capitale italiana della cultura per il 2021 è Parma, mentre per il 2022 sarà l'isola di Procida e nel 2023 Brescia e Bergamo. Le candidature saranno valutate da una giuria che sarà composta da 7 esperti del mondo della cultura, delle arti, della valorizzazione territoriale e turistica. Entro il 18 gennaio 2022 la giuria esaminerà le candidature e selezionerà i 10 progetti finalisti che saranno invitati a delle audizioni pubbliche che si svolgeranno presso la sede del Ministero della Cultura entro il 1 marzo 2022.